Serie D ferma al palo per due settimane con tutti gli sforzi degli addetti ai lavori concentrati su due fronti. Quello principale di provare a cambiare il protocollo utile per giocare le gare in una situazione di emergenza sanitaria e quello di giocare più recuperi possibili in questo periodo di fermo. Sul primo versante il presidente Sibilia in questo momento anche oggetto di critiche da parte di più di un club sta cercando di dare la svolta alla stagione con una modifica al protocollo. Non è proprio un compito facile. I dilettanti non vengono inquadrati come dipendenti cosa che viene concepita nei professionisti dove il giocatore è a busta paga dell'azienda che è la società. Nei dilettanti lo status del giocatore è equiparabile a colui che percepisce mensilmente un rimborso spese anche se poi la realtà concreta non è esattamente così. Sibilia sta provando a scrivere un protocollo che ricalchi quello dei professionisti positivo isolato e tutti gli altri negativi disponibili alla prosecuzione dell'attività tramite anche un test rapido. In questo senso sono attese novità a stretto giro. Diversamente sarebbe davvero difficile proseguire e completare la stagione calcistica della quarta serie. Sul fronte dei recuperi il covid continua a spezzettare le competizioni. Ieri si sarebbero dovuti giocare sei recuperi, quattro di questi hanno subito ulteriori slittamenti. Spazio regolare soltanto a Bolzano Cartigliano, girone C, finita 4 a 0 per i locali e tra Stevere e Follonica Gavorrano, girone E, finita 2 a 1 per gli ospiti. Uno dei due gol è stato siglato dal molisano Angelo Lombardi. Nel girone F ulteriore rinvio per Giulia Nova Cinzia Albalonga. I laziali sono a posto dopo un caso di positività rientrato. L'indisponibilità è stata comunicata dal Giulia 9 a venerdì pomeriggio. Il Campobasso svolgerà domani i tamponi. In base all'esito dei test ci si potrà anche rendere conto in maniera più precisa sulla disputa della trasferta in casa della Cinzia Albalonga che rimane ad oggi stabilita per mercoledì 18 in quel di Genzano. Una fra le formazioni più ferme dal punto di vista dei recuperi, cioè l'Aprilia, dovrà giocare il recupero del recupero. Domenica prossima contro il Matese, gara che si sarebbe già dovuta giocare mercoledì 11 e soggetta dunque ad un ulteriore slittamento. Per quanto riguarda il Comitato Molise, ieri sera il presidente Di Cristinzi ci ha innanzitutto confermato la forte volontà di riprendere e portare a termine i campionati regionali dall'eccellenza in giù. A seguire, lo stesso numero uno ha comunicato che venerdì prossimo è in agenda un consiglio direttivo per fare il punto della situazione in merito ai tornei regionali fermi da una settimana a questa parte. Sembra che le altre regioni siano prossime a deliberare in merito, come il Veneto che vorrebbe riprendere i campionati a febbraio, mentre il Comitato Puglia si riunirà il 12 prossimo per decidere sull'argomento.